Buongiorno a tutti, io sono Cristina Frizza, lavoro presso l'ISPRA per il servizio per l'informazione e le statistiche e reporting sullo stato dell'ambiente. Oggi vi parlo in qualità di coordinatrice del GDL29 che ha redatto le linee guida per il report di sistema sullo stato dell'ambiente. Il nostro gruppo aveva come obiettivo quello delle linee guida per la progettazione di un report di sistema sullo stato dell'ambiente e al fine di fare questo, diciamo che proprio per la realizzazione di tale report, vediamo la prima applicazione del corsetto indicatori individuato dal GDL26. Infatti il nostro lavoro è stato anche quello di condividere con il GDL26 e con gli altri GDL appartenenti all'area 5 le fasi di sviluppo e quindi gli indicatori che erano stati individuati dal GDL26 al fine poi di essere utilizzati come base dei dati per il report di sistema sullo stato dell'ambiente. Questi sono i partecipanti al gruppo GDL29 che hanno appunto contribuito alla realizzazione delle linee guida. Ora proverò a descrivervi quello che conterrà questa presentazione. Vi parlerò delle fasi progettuali che hanno portato alla realizzazione delle linee guida, vi darò una breve descrizione di quale sarà la struttura e i possibili contenuti del futuro report di sistema sullo stato dell'ambiente e poi quali sono gli sviluppi futuri in tema di questa reportistica. Andiamo a vedere quali sono state le quattro fasi che hanno portato alla realizzazione delle linee guida. C'è stata una prima fase di ricognizione dove sono stati appunto raccolti e valutati tutti quanti i rapporti a livello internazionale e sovranazionale inerenti al reporting ambientale. Una volta individuati questi rapporti è stata fatta un'analisi di questi report sullo stato dell'ambiente in modo tale da trarne possibili contenuti e struttura per il nostro report. Alla fine di questa analisi è stata definita la struttura e i possibili contenuti minimi che questo report di sistema sull'ambiente poteva contenere. In fase finale sono state appunto predisposte le linee guida che poi sono state pubblicate e sono pubbliche attualmente sul sito dell'ISPRA. Adesso andiamo ad analizzare le quattro fasi nel loro dettaglio. Come appunto accennavo precedentemente è stata fatta una selezione dei report sullo stato dell'ambiente nei settori del reporting ambientale non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Al fine di raccogliere questi documenti sono state individuate delle banche di informazioni sui principali report ambientali esistenti e sono state prese in considerazione in particolar modo la banca di informazione dell'agenzia europea e quella relativa all'Ocse. A questo punto al fine di poter valutare e rendere confrontabili tutti i report ambientali che erano stati presi in esame è stata predisposta una scheda riassuntiva che contenesse le principali caratteristiche dei report in modo tale da poterli rendere confrontabili e trarne quindi delle conclusioni e fine della realizzazione del nostro report e quindi poi successivamente sono stati appunto fatti una sintesi con un'analisi di questi report. Nella fase cosa è emerso dall'analisi di questi report? In particolar modo è emerso che la produzione era abbastanza disomogenea questo perché dovuto al fatto che report avevano finalità diverse, differenti, stakeholder diversi, situazioni ambientali magari differenti da nazione a nazione e quindi è emersa questa produzione disomogenea. A livello metodologico quello che è emerso e che è risultato appunto che diciamo gli approcci più utilizzati sono stati principalmente due, l'approccio classico cioè quello per matrici ambientali quindi un'analisi dell'ambiente attraverso l'aria, l'acqua, il suolo eccetera e poi l'approccio invece di tipo geosistemico cioè un approccio integrato che andava appunto a vedere le relazioni tra l'ambiente, il sociale e l'economico. Il quadro conoscitivo quindi tutto questo lavoro ha messo in evidenza la necessità di analizzare l'ambiente all'interno di un sistema integrato e questo evidenziando le peculiarità delle diverse realtà territoriali italiane e quindi valorizzando la diversità come un ingrediente essenziale della ricchezza ecosistemica della natura. Oltre a questo quello che è emerso è stata la necessità di scrivere uno stile chiaro e che quindi non fosse destinato esclusivamente a dei tecnici ma che fosse destinato appunto anche a decisori politici e a cittadini interessati alla tematica in quanto dovrebbe essere un report che si indirizzi non soltanto appunto come abbiamo detto al tecnico ma anche al decisore politico per aiutarlo nelle scelte politiche da affrontare e allo stesso tempo al cittadino per permettergli di conoscere qual è la situazione ambientale a livello nazionale e locale. A questo punto il GDL 29 una volta analizzati tutti quanti questi report ha definito i contenuti, i possibili contenuti e la possibile struttura del report di sistema sullo stato dell'ambiente. In particolare è stato appunto dato un particolare interesse come ho detto precedentemente al target di riferimento facendosi appunto che il documento fosse usufruibile da più utenti. Per questo motivo il documento è stato articolato in tre sottodocumenti. Il GDL 29 a seguito della condivisione del documento con la rete di riferimento e i GDL appartenenti all'area 5 ha predisposto le linee guida che sono state poi successivamente pubblicate sul sito dell'ISPR che attualmente sono disponibili al link che vedete in sovrimpressione. Adesso andiamo a vedere come abbiamo strutturato il report di sistema cioè le linee guida danno un indirizzo di come potrebbe essere questo report di sistema ovviamente sono delle indicazioni che poi non necessariamente dovranno essere eseguite alla lettera perché lo stato dell'ambiente è in continua evoluzione e anche le necessità di dare informazione ambientale in continua evoluzione e quindi in funzione di quello poi che sarà verrà modificato a seconda delle esigenze. Attualmente comunque le linee guida indirizzano in tre sottodocumenti. Un primo sottodocumento con l'obiettivo di integrare la componente ambientale sociale ed economica in linea con il settimo programma d'azione in particolar modo con i primi tre obiettivi. Il secondo invece si pone l'obiettivo di descrivere lo stato dell'ambiente in Italia e c'è l'ipotesi di contenere dei box di approfondimento relativi alle tematiche che sono state individuate all'interno di questo documento. E come terzo ultimo documento invece un documento che descriva le situazioni regionali quindi mettendo in evidenza le famose peculiarità regionali e quindi come dicevamo prima la ricchezza della diversità della regione. Ora cercherò di dare una breve descrizione di come saranno un po' più nel dettaglio i contenuti di questi tre documenti. Il primo appunto come abbiamo detto sarà suddiviso in quattro parti, una parte introduttiva e tre parti che faranno riferimento ai tre primi obiettivi del settimo programma d'azione. La parte introduttiva avrà una descrizione dell'ambiente in Italia che delinea appunto il rapporto tra lo stato attuale e le prospettive future. La prima parte invece sarà dedita appunto a descrivere, proteggere, conservare e valorizzare il capitale naturale che è il primo obiettivo del settimo programma d'azione e tratterà in particolare temi quali la perdita della biodiversità, l'uso del territorio, del suolo, gli impatti dell'inquinamento delle acque dolce marino costiere insieme ai cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Il terzo diciamo capitolo tra virgolette parte sarà dedicato invece al secondo obiettivo del settimo programma d'azione che è l'efficienza delle risorse e l'economia a basse emissioni di carbonio. In questo caso ci sarà un'analisi, si affronterà un'analisi sulle risorse materiali, sulle emissioni di carbonio e sulla prevenzione e gestione dei rifiuti e delle pressioni derivanti dai settori produttivi quali appunto l'energia, i trasporti e l'industria. L'ultimo invece l'ultima parte fa riferimento al terzo obiettivo del settimo programma d'azione cioè la salvaguardia dai rischi ambientali per la salute. In questo caso verranno trattati temi come l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e degli agenti fisici sulla salute umana considerando anche la salute e il benessere all'interno di un contesto di sistemi più complessi. Il secondo sottodocumento invece si pone l'obiettivo come abbiamo già detto precedentemente di descrivere lo stato dell'ambiente in Italia. Questo attraverso un'analisi integrata degli indicatori appartenenti appunto al GDL 26 come appartenenti al sistema nazionale e insieme anche al corsetto degli indicatori dell'annuario di Ispra. Questi indicatori sono stati individuati, cioè le tematiche problematiche individuate per descrivere lo stato dell'ambiente in Italia sono state individuate come l'aria, il clima, l'acqua, il suolo, la pericolosità di origine naturale antropica, i rifiuti, il rumore, i campi elettromagnetici e le radiazioni ionizzanti. Il secondo sottodocumento è stato visto come strutturato diciamo in due parti. Una parte che descrive lo stato dell'ambiente attraverso il modello di PSIR, cioè prendendo in esame la condizione esistente, quindi attraverso indicatori di stato ed impatto, andando ad analizzare le cause che hanno concorso a generarle e quindi indicatori determinanti e indicatori di pressione e poi infine concludendo con le soluzioni intraprese o comunque che sono state prospettate e che quindi rappresentano gli indicatori di risposta. Sempre all'interno di questo sottodocumento ci sarà una parte dedicata a dei box di approfondimento sulle tematiche individuate, quindi menzionate precedentemente, dedicati ad argomenti che sono ritenuti particolarmente impregnanti e di attualità per il sistema. Infine andiamo a vedere come sarà strutturato il terzo sottodocumento, anch'esso suddiviso in due parti. Una che descrive e confronta in questo caso le realtà regionali attraverso l'analisi di 13 indicatori significativi che successivamente vedremo e che sono stati individuati in sinergia con il GDL 26 perché in questa fase di scelta di indicatori per la rappresentazione delle situazioni regionali ovviamente abbiamo avuto un'interfaccia con il GDL 26 in fase di sviluppo e abbiamo verificato quali fossero già gli indicatori fattibili e quali non, almeno al momento della lavorazione e in base a questo abbiamo anche preso le decisioni degli indicatori che potevano essere contenuti in questo documento. E poi c'è un'ultima parte di questo sottodocumento invece che è dedicato alle specificità e alle peculiarità regionali, sempre rispettivamente ai temi che sono stati individuati per gli indicatori scelti. Quello che è uscito fuori appunto di questi 13 indicatori, la cosa positiva è che già 9 appartengono al corsetto degli indicatori di sistema fattibile subito e solamente 4 di essi sono appunto fattibili a seguito di approfondimenti. Comunque tutti e 13 gli indicatori appartengono al corsetto annuario ISPRA degli indicatori e che quindi questo vuol dire che tutti e 13 gli indicatori sono popolabili e quindi utilizzabili al fine di redigere il report di sistema sullo stato dell'ambiente. Qui è una tabella, spero che si legga, diciamo soltanto per far vedere quali sono stati i 13 indicatori che sono stati individuati, a quali dei due corsetto appartengono e quindi a quello fattibile subito e a quello a seguito di approfondimenti e le relative tematiche corrispondenti. Quello che emerge appunto e che abbiamo sentito anche nelle presentazioni precedenti dei colleghi i 4 indicatori non fattibili subito ma fattibili a seguito di approfondimenti sono appunto l'emissione di gas serra di cui ci ha parlato prima il collega Mallegni, la raccolta differenziata, il radon, la concentrazione di radon e l'inventario dei fenomeni frannosi d'Italia che comunque sono già degli indicatori appunto indicatori appartenenti al corsetto dell'annuario ISPRA e quindi per cui i dati risultano essere disponibili a fini della predisposizione del documento. Sempre all'interno del terzo sottodocumento ci sarà una tabella riepilogativa prima dei 13 indicatori che riassuma quali sono gli indicatori che sono stati individuati, la descrizione, la finalità, il collocamento all'interno del modello di PSIR, la relativa copertura temporale e una breve descrizione sul trend e sullo stato dell'indicatore. Il terzo sottodocumento come abbiamo detto precedentemente sarà suddiviso in due parti, quello relativo agli indicatori, 13 indicatori individuati con descrizione regionale che conterrà l'ipotesi appunto che venga strutturato in due pagine, una si vedrà, che comunque conterrà dei messaggi chiave relativi all'indicatore in questione sul dato a livello nazionale e poi invece una rappresentazione grafica che confronti le diverse realtà regionali per quell'indicatore con un relativo commento dei dati. La seconda parte invece quella dedicata alla peculiarità regionale darà spazio appunto alle singole ARPA e regioni a poter descrivere una propria peculiarità all'interno di un contesto territoriale che non necessariamente sia una peculiarità positiva ma potrebbe essere anche una criticità della regione stessa. Quali sono gli sviluppi futuri? All'interno l'obiettivo appunto è la realizzazione del report di sistema sullo stato dell'ambiente. A tal fine all'interno dell'area 6 è stato già costituito il GDL 640 che avrà appunto come obiettivo quello di predisporre il report di sistema sullo stato dell'ambiente. All'interno di tale gruppo, che appunto poi vedremo partecipano tutte quante le ARPA, è stato costituito un comitato tecnico di redazione che proprio ieri si è riunito e ha già definito i contenuti definitivi e le modalità di raccolta dei contributi che verranno poi condivisi con l'intero gruppo lunedì, la settimana prossima, per poi avvio finalmente alla raccolta dei contributi per la predisposizione del report che ci auguriamo possa essere realizzato entro la fine dell'anno. Questi sono gli appartenenti al GDL 640 e come potete ben vedere è costituito da tutto il sistema agenziale, quindi c'è un partecipante per ciascun'ARPA. Questo proprio al fine, ovviamente, per la raccolta dei dati e dei contributi è necessario che tutte le ARPA siano presenti a tale attività. Concludo così la mia presentazione, spero di essere stata chiara e di interesse.